eccoci buongiorno bentrovati con cucina con stefi ho preso le puntine di maiale l'ho presa intera e lo presentera così l'ho fatto a pezzi io ho tolto il grasso in eccesso l'ho messa dentro una bowl e ho iniziato a mettere sale pepe tutto quello che più mi piace quindi glielo mettiamo dentro paprika aglio due spicchi d'aglio glielo schiacciati dentro preparatevi perché dovrà fare la marinatura per almeno mezz'ora in frigorifero è ma noi non ci fermiamo nel frattempo due bei cucchiaioni di salsa di soia armatevi di guantino e iniziate a girare la carne in modo che si prenda tutta per bene della sapidità poi una volta massaggiata bene la carne così si rilassa e rimane tenera con un bel massaggio stavo chiudendo ahimè mi stavo dimenticando dell'ultimo ingrediente a riapri prezzemolino che dà anche colore bella sì quindi in frigorifero mezz'ora nel frattempo prepariamo almeno due o tre cipolle tagliamole a fette spesse oggi cucineremo nella pentola a pressione il risultato è spettacolare allora io ho fatto una base di cipolla fitta fitta vedete bella fitta fitta e poi ho messo sopra la carne la nostra carne che ha marinato per mezz'ora in frigorifero se riuscite a farla stare di più ancora meglio quindi ho messo tutta la carne e adesso sopra di nuovo la cipolla il sapore è una cosa non me l'aspettavo come ultimo ingrediente un paio di manciate di pomodorini se avete quello grande di pomodoro fatelo a fette glielo mettete sopra è l'ultimo ingrediente mezzo bicchiere d'acqua e il sale ecco non si vede il mezzo bicchiere d'acqua ma c'è mezzo bicchiere d'acqua e sale pentola pressione ci vogliono almeno 45 50 minuti questo è il risultato io l'ho aperta e l'ho lasciata bollire ancora un pochino per far restringere un pochino dell'acqua dei succhi della carne l'ho fatta restringere quindi ho tolto il coperchio e via altri 6 7 minuti così a fuoco bello vivo attenzione fate sempre attenzione che non si bruci e questo è il risultato no vabbè ma dovete sentire i profumi e i sapori buono 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 la carne diventa tenerissima ed è ve lo devo dire buonissima eccola e questo è quanto per oggi questa è la ricettina di oggi vi è piaciuta sì fatela e noi ci vediamo la prossima ciao